In questo video andremo a visionare come accedere gratuitamente alle applicazioni di Microsoft S5 ad esempio Microsoft Teams, Word, Excel, PowerPoint, Outlook, OneDrive e molto altro potremo avere tutte queste applicazioni gratuite senza nessun tipo di licenza o costo aggiuntivo questa cosa qui è molto utile per i privati perché ad esempio se dovete fare attività scolastica ad esempio farvi una dashboard in PowerPoint oppure lavorare con Excel o con Word o avere anche una gestione con Outlook che è un po' più potente rispetto alla interfaccia di Gmail è sicuramente molto ottimale. Lato aziendale ovviamente è sempre conveniente andare ad acquistare una licenza ma vediamo come accedere a tutte queste applicazioni che vedete alle mie spalle ce ne sono tantissime e se scorriamo la pagina ne troviamo molte altre che potremo andare a utilizzare con il nostro account gratuito. Per fare questo che cosa facciamo? Andiamo su office.com office.com e qui diamo accetta in alto e sotto dobbiamo andare a creare un account gratuito di Microsoft ad esempio se vogliamo accedere a Google Sheet dovremo a creare un account Gmail in questo caso creiamo un account Microsoft se ce l'avete già perché avete Windows 10 e Windows 11 configurato sull'account Microsoft potete direttamente accedere con quel tipo di account poi finito la registrazione dell'account vedremo meglio cosa possiamo fare e cosa non possiamo fare e cosa troviamo nello store di Microsoft per accedere a queste applicazioni allora qui ipotizziamo di non avere un account Microsoft quindi vediamo come farlo insieme andiamo qui e facciamo crea nuovo indirizzo email perfetto lui ci dà dei domini outlook.it, outlook.com oppure hotmail.com possiamo scegliere quello che vogliamo ovviamente poi questo indirizzo lo potremo utilizzare con l'outlook che abbiamo come applicazione gratuita all'interno dell'interfaccia quindi ad esempio creiamo bi4u ad esempio chiamolo outlook.it facciamo clic su avanti perfetto qui creiamo una password mettete la password che meglio credete inseriamola adesso lui ci dice perfetto elaborazione risolve un puzzle per identificare che non siamo un robot perché devono bloccare questo tipo di attività illecite diciamo ora usa le frecce per ruotare l'animale in modo che sia rivolto nella direzione indicata quindi vedete le dittine vanno di qua quindi dobbiamo ruotare l'elefante in modo che sia ruotato allo stesso modo facciamo invio probabilmente se ne chiederà un altro no? ok verifica completata clicchiamo su sì e facciamo ok l'account marzo lo riunisce tutto insieme qui vi spiega un pochino quello che vi dà e facciamo clic su continua a questo punto attendiamo un attimino che finisca le sue configurazioni e verremo reindirizzati all'interfaccia gratuita di Microsoft S5 qui ci dà un benvenuto ci spiega un po' di cose facciamo un po' di clic avanti giusto per chiudere e ecco che ci dà appunto altri suggerimenti facciamo con la X che non ci interessano e vedete che qui abbiamo accesso praticamente alle nostre applicazioni lui ci dice che abbiamo 5 giga di spazio in cloud quindi possiamo andare ad installare 5 giga di documenti all'interno del nostro spazio web qui possiamo acquistare il pacchetto del 365 se lo volessimo perché acquistandolo potremo poi andare a installare l'applicazione nel nostro dispositivo nel nostro computer infatti se facciamo acquista vediamo i vari piani che sono 2 euro al mese 7 euro al mese oppure 10 euro al mese oppure si può andare con l'annuale che andate a risparmiare praticamente due mensilità se veniamo qui e andiamo su app vedete che vedete tutte le app che sono disponibili gratuitamente quindi quello che dicevamo prima Word, Excel, PowerPoint e così via Clipchamp, Loop, OneNote, Skype, Power Automate ci sono veramente tante applicazioni se premiamo ad esempio su Excel che cosa succede? arriviamo su questa interfaccia dove possiamo andare a creare un documento adesso vedete qui vi darebbe l'elenco dei documenti che avete creato online se noi clicchiamo su una nuova cartella di lavoro lui ci dice non è possibile aprire questa cartella di lavoro perché ci sono dei blocchi pop up quindi se avete questo tipo di blocchi ok, avete ricevuto il messaggio fate clic sulla X andate in alto questo è per Firefox ma tutti i browser sono uguali su opzioni dite consenti a Office di aprire finestra pop up quindi gli diamo l'autorizzazione a Office ecco che aprendo la finestra ci permette poi di aprire Excel eccoci qua noi qui abbiamo l'Excel online quindi non è installato andiamo qui ad esempio sulla freccettinata facciamo barra menu classica così ce la vediamo grande come se fosse installata all'interno del nostro computer e qui possiamo tranquillamente andare ad utilizzare Excel in modo tradizionale ci manca Power Pivot oppure Power Query perché se veniamo qua vedete non ci sono i connettori per Power Query o Power Pivot però possiamo utilizzare tutte le funzionalità di Excel comprese tutte le formule matriciali tutto quello che vogliamo veramente c'è veramente di tutto è praticamente come dire avere l'Excel 2007 installato nel computer tutto gratuito e questo ovviamente poi andando sui quadratini che vedete qua su in alto possiamo accedere a tutte le altre applicazioni quindi Outlook ad esempio se premiamo Outlook qui abbiamo registrato un account qui si aprirà Outlook via web e avremo accesso al nostro indirizzo di posta elettronica quindi abbiamo registrato bi4u-outlook.it e ecco che questo è il nostro indirizzo che poi funzionerà con questo strumento e potremo utilizzare appunto anche qui freccettina facciamo menu classico così vediamo tutto e abbiamo l'Outlook online che non è potente come l'Outlook installato nel PC però è un po' meglio ad esempio dell'interfaccia di Google sulla sinistra abbiamo la nostra barretta di navigazione sempre con le applicazioni vedete altre app qui e possiamo vedere altre applicazioni che sono su questo elenco oppure andiamo sempre anche qui possiamo gestire anche il calendario che è molto comodo se dobbiamo registrare i nostri impegni e questa cosa poi la possiamo registrare anche sul nostro cellulare ci installiamo l'office che trovate come applicazione office app se non ricordo male installate sul cellulare accedete col vostro account e anche sul vostro cellulare avete tutto l'office disponibile quindi è veramente veramente molto bello un'ultima cosa che vi dico è che potete andare ad esempio sulla lintina in basso e andate sullo store di Microsoft e qui al posto di accedere attraverso il browser come abbiamo visto poco fa quindi se andiamo qui dobbiamo accedere a office.com per accedere a tutti i componenti possiamo installare anche l'applicazione sul PC che ci dà accesso a un'interfaccia che comunque si collega al sito di office ma ci dà un pulsantino che possiamo aggiungere alla barra dell'applicazione giù in basso quindi torniamo di qua e facciamo semplicemente una ricerca qua su e facciamo office se arriviamo qui lui adesso ci proporrà un po' di app eccole qua vedete che abbiamo Microsoft 365 Personal qui ci dice che possiamo andare ad acquistare qualcosina Microsoft 365 Installato vedete questo qui è quello che dovete andare ad installare se entriamo qui adesso nel mio caso è già installato basterebbe cliccarci su e fare installa qui se faccio apri lui che cosa fa? mi apre un'applicazione che è all'interno del mio PC in questo caso faccio un accedi accedo ad esempio con l'account che ho creato poco fa quindi andiamo a fare account Microsoft in questo caso facciamo ok lo dobbiamo configurare sulla prima volta dopo che rimane registrato bi4u che è l'account che abbiamo visto prima adesso ci metto la password che ho generato prima scrivo ok avanti adesso noi appunto abbiamo fatto il login all'interno del adesso ci mettiamo la password che è legata al computer si chiede il PIN è il PIN che utilizzate per accedere in modalità rapida a Windows ok quindi anche se avete fatto un account nuovo il PIN non è associato a quell'account ma è quello legato al PC ok ecco che siamo entrati vedete che ci dà la stessa applicazione ma adesso non ho più un browser ho praticamente l'applicazione installata e adesso io qui non ce l'ho ma ve la ritroverete come applicazione qua giù eventualmente se non ce l'avete quando l'aprite dallo store fate clic destro aggiungi la barra delle applicazioni così sarà installata nella vostra barra delle applicazioni e basterà cliccare qui per accedere a tutti i servizi senza entrare nel browser ed entrare poi in office.com bene direi che anche con questo video è tutto se è stato il vostro regolamento lasciate un bel like qua sotto iscrivetevi al canale se non siete ancora iscritti se invece vorrete supportarmi magari pensate a stiprare un abbonamento col tasto abbonati che trovate sotto al video così accederete a tutti i servizi che offre il mio canale se invece vorrete supportarmi in altro modo in descrizione troverete molti altri modi per supportarmi vi ringrazio molto per avermi seguito fino a qui ci vediamo al prossimo video a presto ciao ciao